Ciao a tutti, oggi prepareremo il pescolino il liquore alla pesca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 20 giorni di riposo. Gli ingredienti sono pesche, noccioli di pesca, vodka, chiodi di carofano, cannella, acqua, zucchero e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno di un barattolo i noccioli di pesca, 3 interi e uno aperto, le pesche tagliate a pezzetti, versare la vodka, mescolare, chiudere con il coperchio e lasciare macerare per 15 giorni in un luogo fresco e al buio mescolando ogni tanto. Trascorsi i 15 giorni filtrare il liquore. Abbiamo filtrato il liquore, adesso mettere nel boccale lo zucchero, la cannella e i chiodi di carofano. Ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità a 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua, il succo di limone ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità a 2. lasciare raffreddare completamente. Il composto si è raffreddato, adesso aggiungere il liquore. ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità a 3. trasferire in una bottiglia di vetro e lasciare riposare per una settimana prima di consumarlo. pescolino liquore alla pesca grazie e alla prossima ricetta piuttosto si self restituivo. giugio pesca grazie il